Lezione 1. Siamo stati così impegnati ultimamente. Anna, siamo stati così impegnati ultimamente. Abbiamo davvero bisogno di un po' di tempo per rilassarci e goderci la natura. Bene, questo viaggio sarà perfetto per questo. Sono completamente d'accordo, John. Allontanarci dal caos e dalla frenesia ci farà bene. Posso già immaginarci mentre camminiamo nella foresta e respiriamo aria fresca. E immagina i momenti sereni che trascorreremo in riva al lago, immergendoci nella tranquillità. Assolutamente, Anna. Sarà una grande opportunità per staccare la spina dalla routine quotidiana e ritrovare la pace interiore. Non vedo l'ora di esplorare la bellezza della natura e ammirare panorami mozzafiato. Anch'io, Anna. È importante dedicare del tempo a noi stessi e ricaricare le batterie. Questo viaggio sarà la fuga perfetta per rilassarsi, ricaricarsi e riconnettersi con la natura. Non potrei essere più d'accordo, Anna. È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per trovare l'equilibrio e ringiovanire il nostro spirito. Lezione 2. Recentemente ho iniziato a dipingere per hobby. Anna. Recentemente ho iniziato a dipingere per hobby e mi ha portato tanta gioia. Meraviglioso, John. Gli hobby arricchiscono davvero la nostra vita e danno un senso di appagamento. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ogni volta che dipingo, provo un senso di calma e creatività. È incredibile come impegnarsi in qualcosa che amiamo possa portare così tanta felicità e soddisfazione. Assolutamente. È come una forma di espressione personale che ci permette di esplorare le nostre passioni e i nostri interessi. Che si tratti di dipingere, suonare uno strumento o qualsiasi altro hobby, aggiunge una scintilla speciale alla nostra routine quotidiana. Sono completamente d'accordo, Anna. Gli hobby ci danno una pausa dalle responsabilità quotidiane e ci permettono di concentrarci su ciò che ci dà gioia. Sono come una piccola fuga, un modo per ricaricarsi e trovare ispirazione in qualcosa che amiamo veramente. È incredibile come un semplice hobby possa portare così tanta positività e soddisfazione nella nostra vita. Ecco perché è importante dedicare del tempo ai nostri hobby e dare priorità alle attività che ci portano felicità. Non avrei potuto dirlo meglio, Anna. Continuiamo ad abbracciare i nostri hobby e lasciamo che arricchiscano la nostra vita. Lezione 3. Adoro quello che hai fatto con il tuo salotto. Anna, adoro quello che hai fatto con il tuo salotto. Adesso sembra così diverso. Grazie, John. Ho apportato alcune piccole modifiche ed è incredibile come abbia trasformato l'intera stanza. Hai ragione, Anna. È incredibile come anche le più piccole modifiche possano avere un grande impatto. A volte si tratta solo di dettagli. Un tappeto nuovo, dei cuscini e una nuova mano di vernice possono fare miracoli. Assolutamente. Ciò dimostra che non è sempre necessario eseguire una revisione completa per ottenere un nuovo look. Esattamente. Si tratta di essere intenzionali nelle scelte che facciamo e nel modo in cui queste si combinano. Non avevo mai capito quanta differenza potessero fare alcune decorazioni ben posizionate. Un buon design consiste nel creare armonia ed equilibrio in uno spazio, e anche piccole modifiche possono aiutare a raggiungere questo obiettivo. È vero. È affascinante come qualcosa di semplice come riorganizzare i mobili o aggiungere un pezzo di tendenza possa dare nuova vita a una stanza. Ecco perché vale sempre la pena prendere in considerazione diverse opzioni e sperimentare piccole modifiche. Hai fatto un'ottima osservazione, Anna. È incredibile come piccoli cambiamenti possano cambiare completamente una stanza e migliorarne l'atmosfera generale. Assolutamente, John. Si tratta solo di trovare ciò che funziona per te e creare uno spazio che rifletta il tuo stile, e le tue preferenze personali. Lezione 4. Stavo pensando di aggiornare il mio guardaroba. Anna, stavo pensando di aggiornare il mio guardaroba. Voglio provare qualcosa di nuovo. Fantastico, John. Non abbiate paura di sperimentare e lasciate trasparire il vostro stile personale. Hai ragione. Ho sempre giocato sul sicuro con le mie scelte di abbigliamento, ma è tempo di cambiare. Abbracciare nuovi stili e tendenze può essere entusiasmante. È un'occasione per esprimere te stesso e mostrare la tua personalità unica. Ti ho visto indossare abiti diversi con disinvoltura, ed è fonte di ispirazione. Anch'io voglio uscire dalla mia zona di comfort. Fantastico, John. Rimarrai sorpreso di quanto possa essere rinfrescante provare diversi colori, motivi e accessori. Immagino che si tratti di avere fiducia in ciò che si indossa e di possedere la propria individualità. Assolutamente. La moda è un'arte e tu hai l'opportunità di creare il tuo capolavoro. Sono pronto a liberarmi dalla norma e lasciare che il mio stile personale si evolva. Non vedo l'ora di vedere le tue dichiarazioni di moda, John. Accogli il viaggio e goditi il processo. Grazie, Anna. Il tuo incoraggiamento significa molto. Abbracciamo nuovi stili e lasciamo trasparire il nostro stile personale. Lezione 5. Come dobbiamo vestirci per questo? Anna, ho sentito che c'è un evento formale in arrivo. Come dobbiamo vestirci per questo? Sono d'accordo, John. È sempre meglio essere preparati e vestirsi di conseguenza per queste occasioni. Dovremmo optare per un abbigliamento più formale come completi e vestiti? Sì, sarebbe appropriato. È meglio sbagliare dal lato del travestirsi piuttosto che sottovestirsi. Ricordo una volta in cui ho partecipato a un evento simile e mi sono sentita fuori posto perché non mi vestivo in modo appropriato. Questa è una buona lezione appresa. Vestirsi in base all'occasione dimostra rispetto e considerazione per l'evento e i suoi ospiti. Assolutamente. Inoltre ci aiuta a sentirci più sicuri e a nostro agio quando siamo vestiti in modo appropriato. Inoltre, è una grande opportunità per mostrare il nostro stile personale pur rispettando il codice di abbigliamento. Questo è vero. Possiamo aggiungere il nostro stile attraverso accessori o scelte di colore entro i confini dell'abbigliamento formale. Si tratta di trovare quell'equilibrio tra seguire il codice di abbigliamento ed esprimersi. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Assicuriamoci di essere ben preparati e vestiamoci di conseguenza per l'evento. Sicuramente, John. È sempre meglio vestirsi un po' troppo che sentirsi svestiti. Lezione 6. Chi tifi nel calcio? Anna, la Coppa del Mondo è dietro l'angolo. Chi tifate nel calcio? Beh, sono un grande tifoso della squadra brasiliana. Apportano sempre tanta energia e abilità al gioco. Ah, il Brasile è una potenza nel calcio. Hanno una ricca storia e hanno prodotto giocatori incredibili. Assolutamente. Il modo in cui giocano con talento e creatività è accattivante da guardare. Ho sempre preferito tifare per la squadra tedesca. Hanno un ottimo record e giocano con precisione tattica. La Germania è nota per il suo stile di gioco disciplinato ed efficiente. Hanno sicuramente una squadra forte. È interessante come il calcio possa unire le persone, anche quando tifiamo per squadre diverse. Questo è il bello dello sport, John. Crea un senso di cameratismo e competizione amichevole. In effetti. È sempre emozionante assistere alla passione e all'abilità dimostrate dai team di tutto il mondo. Non vedo l'ora di guardare le partite e vedere come si esibiranno le diverse squadre sul grande palco. Sarà un torneo emozionante, Anna. Godiamoci la Coppa del Mondo e celebriamo lo spirito del gioco. Lezione 7. Era una fusione di cucina messicana e thailandese. Anna, ho provato questo nuovo piatto ieri ed è stato fantastico. Era una fusione di cucina messicana e thailandese. Sembra interessante, John. Com'era la combinazione di sapori? È stato incredibile. Il piatto aveva un tocco speziato dovuto alle spezie messicane, ma c'era anche un pizzico di dolcezza negli ingredienti thailandesi. Sembra un delizioso equilibrio di sapori. Adoro quando cucine diverse si uniscono per creare qualcosa di unico. Esattamente, Anna. È stata una deliziosa sorpresa assaggiare gli elementi familiari di entrambe le cucine in un unico piatto. La cucina fusion può essere davvero entusiasmante. Ci permette di esplorare nuove sensazioni gustative ed esperienze culinarie. Non potrei essere più d'accordo. È come un'avventura culinaria che ci porta oltre i confini tradizionali di una singola cucina. È incredibile come la combinazione di diverse spezie, erbe e tecniche di cottura possa creare sapori così armoniosi. Assolutamente. È una testimonianza della creatività e dell'innovazione nel mondo culinario. Adesso sono curiosa di provare anch'io questo piatto fusion. Sembra un delizioso mix di calore e dolcezza. Lo consiglio vivamente, Anna. È un'esplosione di sapori che ti farà desiderare di più. In futuro terrò sicuramente d'occhio i piatti fusion. È emozionante scoprire nuove delizie culinarie. Davvero, Anna. Continuiamo a esplorare e ad abbracciare il variegato e meraviglioso mondo del cibo. Lezione 8. La maggior parte dei proprietari richiede un deposito anticipato. Anna, stavo cercando di affittare un appartamento. Ho notato che la maggior parte dei proprietari richiede un deposito anticipato. Questa è una pratica comune, John. È un modo per i proprietari di proteggere le loro proprietà e garantire loro una certa sicurezza. Questo lo capisco. È solo una spesa extra da considerare quando ci si trasferisce in un nuovo posto. Vero, ma è anche un modo per gli inquilini di dimostrare il proprio impegno e la propria responsabilità. Credo che abbia senso. Il deposito funge da garanzia per eventuali danni o canoni di locazione non pagati. Esattamente. Dà tranquillità ai proprietari e aiuta a mantenere le condizioni della proprietà. I depositi sono generalmente rimborsabili alla fine del contratto di locazione? Nella maggior parte dei casi sì. Se non ci sono danni e tutti i pagamenti dell'affitto sono stati effettuati, il deposito deve essere restituito. È bello saperlo. È importante mantenere la proprietà in buone condizioni per garantire un rimborso completo. Assolutamente. Prendersi cura del posto come se fosse il proprio è sempre una buona pratica. Mi assicurerò di leggere attentamente il contratto di locazione e di comprendere i termini di deposito prima di firmare. È un approccio saggio, John. È importante essere ben informati e consapevoli dei propri diritti e doveri. Grazie, Anna. Il tuo consiglio è prezioso. Sarò preparato quando si tratta di affittare e gestire i depositi. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Bisogna trovare un posto fantastico e un'esperienza di noleggio senza intoppi. Lezione 9. Sto pensando di fare la spesa oggi. Anna, sto pensando di fare la spesa oggi. Avete delle preferenze? Beh, penso che dovremmo procurarci gli articoli normali di cui abbiamo sempre bisogno, ma attenzione ai prezzi. Questa è una buona osservazione. Può diventare costoso se non stiamo attenti alle nostre scelte. Assolutamente. Atteniamoci alle nostre solite cose essenziali, ed evitiamo sprechi inutili. Sembra un piano. Va bene, prendiamo anche della lattuga. Ho voglia di un'insalata. È una scelta salutare, John. La lattuga aggiungerà freschezza ai nostri pasti. Sicuramente. È versatile e può essere utilizzato in vari piatti. Inoltre, di solito è conveniente e facilmente disponibile. Questo è vero. Possiamo trovarlo facilmente al supermercato senza spendere una fortuna. Assicuriamoci di controllare la qualità prima di acquistare, però. Buona idea, Anna. Vogliamo assicurarci di avere lattuga fresca e croccante. Assolutamente. È sempre meglio essere selettivi quando si tratta di prodotti freschi. Concordato. Andiamo al negozio a prendere tutto ciò di cui abbiamo bisogno, compresa la lattuga per le nostre insalate. Sembra un piano, John. Andiamo a preparare dei pasti sani e deliziosi. Lezione 10. Hai qualche trucco organizzativo che dovrei provare? Anna, ho cercato di organizzarmi, ma a volte mi sento opprimente. Avete qualche trucco organizzativo che potrei provare? Certo, John. Un trucco utile è quello di riordinare regolarmente. Sbarazzati delle cose che non ti servono o che non usi più. Questo ha senso. Eliminare il disordine può fare una grande differenza nella creazione di uno spazio più organizzato. Un altro trucco consiste nel creare spazi designati per oggetti diversi. Prepara spazi specifici per chiavi, portafogli e altri oggetti di uso frequente. Questa è un'ottima idea. Mi risparmierebbe un sacco di tempo a cercare cose se sapessi esattamente dove trovarle. Puoi anche provare a utilizzare etichette o sistemi di codifica a colori per classificare e identificare facilmente gli articoli. Sembra un modo semplice ma efficace per mantenere le cose organizzate e facilmente accessibili. Un altro trucco consiste nell'utilizzare strumenti digitali. Usa app o calendari digitali per tenere traccia delle attività e degli appuntamenti. Questo è un buon suggerimento. Posso avere tutte le mie informazioni importanti in un unico posto e impostare promemoria in base alle esigenze. Infine, stabilisci una routine e rispettala. Avere un programma coerente per le attività e le faccende domestiche può aiutare a mantenere l'organizzazione. Vedo come avere una routine possa portare struttura e ordine nella mia vita quotidiana. Ci proverò. Ottimo, John. L'implementazione di questi trucchi dovrebbe renderti più facile organizzarti e trovare le cose quando ne hai bisogno. Grazie, Anna. Questi trucchi organizzativi sono pratici e gestibili. Sono entusiasta di iniziare a implementarli. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Ecco una vita più organizzata e senza stress. Lezione 11. Stavo cercando un nuovo appartamento. Anna, stavo cercando un nuovo appartamento, ma finora non ho avuto fortuna. Può essere difficile trovare il posto giusto. Capisco, John. Il mercato degli affitti può essere competitivo e ci vuole tempo per trovare la soluzione perfetta. Ho sfogliato gli elenchi online, ma sembra che le buone opzioni vengano prese rapidamente. Questo è vero. È importante agire rapidamente ed essere proattivi quando trovi un posto che soddisfa i tuoi criteri. Ho anche contattato alcuni agenti immobiliari per vedere se hanno opzioni disponibili. È una mossa intelligente, John. Gli agenti immobiliari spesso hanno accesso a più annunci e possono aiutarti a restringere la ricerca. Sono d'accordo. Avere una guida professionale può rendere il processo meno faticoso. Hai preso in considerazione l'idea di espandere la ricerca a diversi quartieri o aree? Sì, ho iniziato a esplorare anche altri quartieri. Apre più possibilità. È una buona strategia. A volte, il posto perfetto potrebbe essere in un quartiere che inizialmente non avevi considerato. Sto anche cercando di essere flessibile con le mie esigenze. Essere aperti a lievi compromessi può ampliare le opzioni. È un approccio saggio, John. Dai la priorità ai tuoi oggetti indispensabili e sii disposto a scendere a compromessi su alcune preferenze. Spero, con perseveranza e un po' di fortuna, di trovare presto il posto giusto. Sono sicuro che lo farai, John. Non scoraggiarti e continua a cercare. L'appartamento giusto è là fuori che ti aspetta. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. Rimarrò ottimista e continuerò la mia ricerca. Lezione 12. Ho cercato di stabilire una routine. Anna, sto cercando di stabilire una routine e un aspetto su cui mi sto concentrando è mantenere una dieta equilibrata. È un grande obiettivo, John. Una dieta equilibrata è importante per la salute e il benessere generale. Assolutamente. Sto cercando di incorporare una varietà di cibi di diversi gruppi alimentari. Inclusi frutta, verdura, cereali integrali, proteine magre e grassi sani? Sì, esattamente. Voglio assicurarmi di assumere tutti i nutrienti necessari di cui il mio corpo ha bisogno. Questo è un approccio intelligente. È importante alimentare il corpo con una vasta gamma di nutrienti. Sto anche cercando di limitare il mio consumo di alimenti trasformati e zuccheri aggiunti. Questa è una buona idea. La scelta di cibi integrali e non trasformati può fornire un maggiore valore nutritivo. Trovo che pianificare i miei pasti in anticipo mi aiuti a rimanere in linea con la mia dieta equilibrata. La pianificazione dei pasti è un'ottima strategia. Ti permette di fare scelte più sane ed evitare di mangiare impulsivamente. Sono anche consapevole delle dimensioni delle porzioni per assicurarmi di non mangiare troppo. Il controllo delle porzioni è fondamentale. Aiuta a mantenere un apporto calorico sano e previene un consumo eccessivo. Sono felice di aver apportato queste modifiche. Mi sento già più energico e concentrato. È fantastico da sentire, John. Il tuo corpo ti ringrazierà per averlo nutrito con scelte salutari. Grazie, Anna. È un lavoro in corso, ma mi impegno a mantenere una dieta equilibrata per il mio benessere. Stai andando alla grande, John. Continuate con lo sforzo e sono sicuro che continuerete a vedere risultati positivi. Apprezzo il tuo supporto, Anna. Apprezziamo uno stile di vita più sano e la cura di noi stessi. Lezione 13. Uscire dalla nostra zona di comfort. Anna, stavo pensando a come uscire dalla nostra zona di comfort possa aprire le porte a nuove opportunità. Ottima osservazione, John. Provare cose nuove ed esplorare territori sconosciuti può portare a possibilità entusiasmanti. Esattamente. A volte, ci limitiamo a limitarci a ciò che è familiare e confortevole. Uscire dalle nostre zone di comfort ci permette di crescere, imparare e scoprire nuovi talenti e interessi. Sono completamente d'accordo. È essenziale sfidare noi stessi e abbracciare nuove esperienze. Assumendo rischi e affrontando nuove sfide, possiamo espandere i nostri orizzonti e raggiungere il nostro pieno potenziale. All'inizio può essere un po' intimidatorio, ma i premi e la crescita personale ne valgono la pena. Assolutamente. Accettare il disagio e superare i propri limiti può portare allo sviluppo personale e professionale. Ho notato che ogni volta che ho fatto un atto di fede, questo mi ha aperto le porte a opportunità inaspettate. È meraviglioso sentirlo, John. Accettare l'ignoto può portare cambiamenti positivi nella nostra vita. È importante ricordare che la crescita avviene al di fuori delle nostre zone di comfort. Hai assolutamente ragione, John. Entrare nell'ignoto può portare alla scoperta di sé e a nuovi traguardi. Sono entusiasta di continuare a esplorare nuove opportunità e di mettermi alla prova lungo la strada. È una mentalità fantastica, John. Continua ad abbracciare l'ignoto e continuerai a prosperare. Grazie, Anna. Il tuo incoraggiamento e il tuo punto di vista significano molto. Siamo pronti ad abbracciare nuove opportunità e alla crescita personale. Lezione 14. Volevo discutere della proposta che hai citato. Buongiorno, Anna. Volevo discutere della proposta che hai citato la settimana scorsa. Buongiorno, John. Mi fa piacere che tu ne abbia parlato. Ci ho pensato anch'io. Ottima. Ricordo che avevi delle idee interessanti. Potresti darmi un breve riassunto? Certo. La proposta si concentra sulla razionalizzazione dei nostri processi interni per aumentare l'efficienza. Sembra promettente. Potresti approfondire le aree specifiche a cui ci rivolgeremo? Assolutamente. Un'area che vorremmo affrontare è l'ottimizzazione dei nostri canali di comunicazione e del flusso di lavoro. Questo ha senso. Migliorare la comunicazione ci aiuterebbe a collaborare in modo più efficace. Sì, esattamente. Implementeremo anche strumenti di automazione per ridurre le attività manuali e risparmiare tempo. L'automazione potrebbe sicuramente aumentare la nostra produttività e liberare risorse per altre attività importanti. Inoltre, rivedremo e perfezioneremo le nostre strategie di gestione dei progetti per una migliore organizzazione. Questo è importante. Un approccio ben strutturato alla gestione dei progetti può prevenire ritardi e garantire un'esecuzione senza intoppi. Infine, ci concentreremo sulla formazione e lo sviluppo dei dipendenti per migliorare le competenze e le conoscenze. Investire nella crescita dei nostri dipendenti non solo li avvantaggerebbe, ma contribuirebbe anche al successo complessivo dell'azienda. Sono felice che tu veda il valore della proposta, John. Credo che possa portare miglioramenti significativi. Sicuramente, Anna. Pianifichiamo un incontro per discutere ulteriormente i dettagli e iniziare a implementare queste modifiche. Sembra un piano, John. Organizzerò un incontro e raccoglierò altre informazioni da presentare. Grazie, Anna. Apprezzo i vostri sforzi e non vedo l'ora di lavorare insieme su questo. Benvenuto, John. Sono entusiasta del potenziale impatto positivo che questa proposta può avere. Lezione 15. Hai visto questa delicata collana con pendente? Anna, hai visto questa delicata collana con ciondolo? È adorabile. La piccola pietra aggiunge un tocco di eleganza. Sì, l'ho visto, John. È semplice ma bello. Il design delicato è piuttosto affascinante. Penso che sarebbe un regalo perfetto per il compleanno di mia sorella. Ama i gioielli eleganti e sobri. È una scelta ponderata, John. Sono sicuro che apprezzerà un regalo così bello e significativo. La piccola pietra gli conferisce una sottile lucentezza. Penso che completerebbe perfettamente il suo stile. Sono d'accordo. A volte sono i piccoli dettagli a rendere un gioiello davvero speciale. Anche il design del ciondolo è versatile. Può indossarlo in varie occasioni, sia casual che formali. Ottima osservazione, John. È sempre bello avere gioielli che possono essere facilmente abbinati a diversi abiti. Sono contenta che tu la pensi così. Vado avanti e lo compro. Sono sicuro che ne sarà felicissima. Sono sicuro che lo farà, John. È una scelta regalo premurosa e bella. Grazie per il tuo contributo, Anna. La tua opinione mi ha aiutato a prendere una decisione. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Sono sicuro che tua sorella adorerà la collana. Apprezzo il tuo aiuto. Dobbiamo trovare il regalo perfetto e rendere la giornata di qualcuno un po' più luminosa. Lezione 16. Per noi è fondamentale essere ben informati. Anna, con le prossime lezioni, penso che sia fondamentale per noi essere ben informati prima di esprimere i nostri voti. Assolutamente, John. Prendere decisioni informate ci assicura di scegliere i candidati in linea con i nostri valori e le nostre priorità. Credo che dovremmo prendere in considerazione i precedenti dei candidati e le loro posizioni su questioni importanti. È un buon punto di partenza. Comprendere le loro azioni e posizioni passate può darci un'idea di come potrebbero governare in futuro. È inoltre essenziale ricercare le politiche e i piani proposti per affrontare le sfide attuali. Concordato. Dobbiamo valutare se le soluzioni proposte sono in linea con le nostre opinioni su questioni come l'economia, l'assistenza sanitaria e l'ambiente. Inoltre, dovremmo esaminare le loro qualifiche ed esperienze per valutare la loro capacità di svolgere efficacemente i loro ruoli. Questo è importante, John. La competenza e l'esperienza nelle aree pertinenti possono influire notevolmente sulla loro efficacia come dipendenti pubblici. Penso anche che sia importante considerare la loro integrità e i loro standard etici. Vogliamo leader che agiscano con onestà e trasparenza. Assolutamente. L'affidabilità e l'impegno verso un comportamento etico sono qualità vitali dei nostri rappresentanti eletti. Infine, è utile cercare diverse fonti di informazione per avere una prospettiva a tutto tondo su ciascun candidato. Non potrei essere più d'accordo. Affidarci a una varietà di fonti affidabili ci aiuta a evitare pregiudizi e ad acquisire una comprensione più completa. Essendo ben informati, possiamo fare scelte consapevoli che siano in linea con i nostri valori e contribuiscano a un cambiamento positivo. Ben detto, John. Facciamo lo sforzo di raccogliere informazioni e impegnarci nel processo democratico in modo responsabile. Grazie, Anna. Insieme, possiamo fare la differenza esercitando il nostro diritto di voto con consapevolezza e attenzione. Lezione 17. Possiamo esplorare la città senza preoccuparci del nostro soggiorno. Anna, ora che abbiamo prenotato il nostro alloggio, possiamo esplorare la città senza preoccuparci del nostro soggiorno. È vero, John. È un sollievo che la situazione fosse risolta. Possiamo immergerci completamente nel nuovo ambiente. Sono entusiasta di scoprire le attrazioni locali, provare nuove cucine e vivere la cultura della città. Anche io, John. Esplorare posti nuovi è sempre un'avventura, e questa città ha molto da offrire. Dovremmo fare un elenco di luoghi imperdibili e pianificare il nostro itinerario di conseguenza. Buona idea è in questo modo, possiamo sfruttare al massimo il nostro tempo e assicurarci di non perdere nessun sito importante. Ho sentito che ci sono dei bellissimi parchi e giardini. Sarebbe bello trascorrere dei momenti di relax nella natura. Assolutamente. Il contatto con la natura può essere rinfrescante e rigenerante, soprattutto in una città vivace. Dovremmo anche cercare consigli locali per ristoranti e provare una cucina autentica. Sicuramente. Provare nuovi piatti è uno dei momenti salienti del viaggio. È un'occasione per concedersi i sapori locali. E non dimentichiamo i musei e le gallerie d'arte della città. Possono fornire informazioni sulla sua storia e sul suo patrimonio artistico. Sono d'accordo, John. Esplorare gli aspetti culturali e artistici di una città può essere sia educativo che stimolante. Questo viaggio è un'opportunità per noi di abbracciare l'ignoto, creare ricordi duraturi e ampliare i nostri orizzonti. Assolutamente, John. Sfruttiamola al massimo e godiamoci ogni momento di questa nuova avventura. Non vedo l'ora, Anna. Intraprendiamo questo viaggio con menti e cuori aperti, pronti a scoprire e sperimentare tutto ciò che la città ha da offrire. Lezione 18. Sei libero questo sabato? Anna, sei libera questo sabato? Pensavo che potremmo recuperare il ritardo. Sì, John. Sono libero. Mi piacerebbe incontrarmi e passare un po' di tempo insieme. Ottimo. Che ne dici di prendere un caffè nel nostro bar preferito al mattino? Sembra perfetto. Ho voglia dei loro deliziosi cappuccini. Allora è deciso. Incontriamoci al bar alle 10 di sabato. Assolutamente. Sarò lì in orario. Non vedo davvero l'ora. Anch'io, Anna. È passato troppo tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto la possibilità di recuperare il ritardo. Concordato. Ho così tanto da raccontarti su quello che sta succedendo ultimamente. Non vedo l'ora di sapere tutto. Sarà bello fare una chiacchierata rilassata. Sicuramente. È importante prendersi del tempo per rilassarsi e godersi la reciproca compagnia. Sono completamente d'accordo. Sabato sarà l'occasione perfetta per farlo. Ci vediamo allora, John. Ti auguro un fantastico resto della settimana prima del nostro incontro. Anche tu, Anna. Prenditi cura di te e ci vediamo sabato per passare del tempo insieme. Lezione 19. Dovremmo prenotare i tour in anticipo. Anna, stavo pensando al nostro prossimo viaggio. Pensi che dovremmo prenotare i tour in anticipo per garantire un'esperienza senza intoppi? Buona idea, John. Prenotare i tour in anticipo può farci risparmiare il fastidio di aspettare in lunghe file o di perdere la disponibilità. Esattamente. Sarebbe bello avere pianificato il nostro itinerario e assicurarci posti per le attività che ci interessano. Sono d'accordo. Ci dà tranquillità e ci consente di sfruttare al massimo il nostro tempo in ogni destinazione. Quindi, posso prenotare i tour in anticipo? C'è un sito web o un'agenzia di viaggi che dovremmo contattare? Sì, puoi prenotare i tour presso l'agenzia di viaggi che utilizziamo abitualmente. Hanno un sito web dove puoi sfogliare le opzioni disponibili ed effettuare prenotazioni. Questo è comodo. Controllerò il sito web e vedrò quali tour sono offerti nella nostra destinazione. Prenditi il tuo tempo, John. Assicurati di prendere in considerazione le nostre preferenze e le attrazioni o i monumenti specifici che vogliamo visitare. Lo farò, Anna. Controllerò anche se sono disponibili sconti o pacchetti speciali per più tour. È un'idea intelligente. Possiamo risparmiare denaro godendo di una varietà di esperienze. Sono contento che stiamo pianificando in anticipo. Renderà il nostro viaggio più organizzato e piacevole. Non potrei essere più d'accordo, John. È sempre bello avere tutto a posto, così possiamo concentrarci sulla creazione di ricordi. Inizierò a prenotare i tour. Non vedo l'ora di esplorare nuovi posti con te. Allo stesso modo, John. Facciamo di questo viaggio un'avventura indimenticabile piena di esperienze emozionanti. Assolutamente, Anna. Aspettiamo un viaggio straordinario e ben pianificato. Lezione 20. Hai sentito parlare della grande vendita in corso nel negozio? Anna, hai sentito della grande svendita in negozio questo fine settimana? Ci si aspetta che sia piuttosto affollato. Sì, ne ho sentito parlare, John. Il negozio è sempre affollato durante vendite come queste. Lo so, giusto? Può essere un po' opprimente con così tante persone che fanno acquisti contemporaneamente. Sicuramente. Ma penso che se pianifichiamo la nostra visita in modo strategico, possiamo comunque sfruttare al meglio la vendita. Questa è una buona osservazione. Dovremmo provare ad andare la mattina presto quando è meno affollato. Sono d'accordo. Arrivare lì all'apertura del negozio ci darà maggiori possibilità di navigare tranquillamente. Dovremmo anche fare un elenco degli articoli che vogliamo acquistare, in modo da rimanere concentrati ed evitare di farci sopraffare. Ottima idea! Avere una lista della spesa ci aiuterà a rimanere organizzati e a non lasciarci trasportare dagli acquisti d'impulso. E non dimentichiamo di vestirci comodamente. Può essere faticoso navigare in un negozio affollato per un periodo prolungato. Assolutamente! Indossare scarpe e abbigliamento comodi renderà la nostra esperienza di acquisto molto più piacevole. Ho anche sentito che hanno personale aggiuntivo a disposizione durante la vendita per assistere i clienti. Possiamo trarne vantaggio se abbiamo bisogno di aiuto. Buono a sapersi, John. Se abbiamo domande o abbiamo bisogno di assistenza, possiamo facilmente trovare qualcuno che ci aiuti. Nel complesso, con un po' di pianificazione e pazienza, penso che possiamo ancora approfittare della vendita e trovare delle ottime offerte. Sono d'accordo, John. Si tratta solo di essere preparati e sfruttare al meglio la situazione. Facciamo un piano e andiamo a fare shopping con una mentalità positiva. Sono sicuro che troveremo delle fantastiche occasioni. Non vedo l'ora, John. Godiamoci l'esperienza e sfruttiamo al massimo la vendita. Il nostro augurio è fare acquisti di successo e trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno a ottimi prezzi. Lezione 21. Avremo bisogno dei nostri passaporti pronti per il nostro prossimo viaggio. Anna, ho appena capito una cosa. Avremo bisogno dei passaporti pronti per il nostro prossimo viaggio. Hai ragione, John. È importante che i nostri passaporti siano preparati con largo anticipo. Mi assicurerò di controllare le date di scadenza e di rinnovarle se necessario. Buona idea. Non vogliamo sorprese o ritardi dell'ultimo minuto in aeroporto. Raccoglierò anche tutti i documenti e i documenti necessari per un'esperienza di viaggio senza intoppi. È una mossa intelligente. Avere tutto organizzato ci farà risparmiare tempo e potenziali mal di testa. Dovremmo anche conservare i nostri passaporti in un luogo sicuro e facilmente accessibile, in modo da non perderli durante il viaggio. Assolutamente. Perdere i passaporti sarebbe un grave inconveniente. Stiamo molto attenti con loro. Ricontrollerò di avere tutti i visti o i permessi di ingresso richiesti per la nostra destinazione. Ottima. È fondamentale rispettare le norme sull'immigrazione per evitare complicazioni. Farò anche delle copie dei nostri passaporti, per ogni evenienza. È sempre bene avere documenti di backup. È una saggia precauzione, John. Ci dà un ulteriore livello di sicurezza in caso di eventi imprevisti. Mancano alcune settimane al viaggio, quindi abbiamo abbastanza tempo per occuparci di tutte queste questioni relative ai passaporti. Concordato. Diamo priorità alla preparazione dei passaporti, in modo da poterci concentrare sul goderci il viaggio senza preoccupazioni. Sono contenta che ne abbiamo parlato. È un aspetto essenziale del nostro viaggio che non dovrebbe essere trascurato. Assolutamente. Essere ben preparati e avere i passaporti in ordine garantiranno un viaggio senza intoppi e senza stress. Alla preparazione del passaporto con successo e ha un'entusiasmante avventura. Lezione 22. Ti dispiace se andiamo in un parco a tema per la nostra prossima uscita? Anna, ti dispiace se andiamo in un parco a tema per la nostra prossima uscita? No, niente affatto, John. Penso che sia un'idea fantastica. Sei mai stato in un parco a tema prima d'ora? Sì, l'ho fatto. Adoro il brivido e l'eccitazione delle giostre e delle attrazioni. È bello sentirlo. Sarà un'esperienza divertente per entrambi. Sono d'accordo. I parchi a tema hanno molto da offrire in termini di intrattenimento e divertimento. Dovremmo controllare in anticipo le diverse giostre e attrazioni, in modo da poter pianificare la nostra giornata di conseguenza. Assolutamente. È una buona idea avere un'idea di cosa vogliamo provare e sfruttare al meglio il nostro tempo lì. Sono particolarmente entusiasta delle montagne russe. La scarica di adrenalina è imbattibile. Mi sento allo stesso modo, John. Le curve e le curve delle montagne russe mi danno sempre una sensazione esaltante. Dovremmo anche provare alcuni degli spettacoli e delle esibizioni a tema. Possono essere molto divertenti. Sicuramente. Gli spettacoli aggiungono un altro livello di eccitazione e varietà all'esperienza del parco a tema. Assicuriamoci di portare scarpe e vestiti comodi, poiché cammineremo e staremo in piedi per gran parte della giornata. Buon consiglio, John. Il comfort è fondamentale per godersi appieno la giornata senza fastidio o stanchezza. Non vedo l'ora di partire per questa avventura con te, Anna. Sarà un vero spasso. Anch'io non vedo l'ora, John. Sarà una giornata piena di risate, emozioni e ricordi indimenticabili. Ecco una fantastica giornata al parco a tema e alla creazione di ricordi che dureranno tutta la vita. Lezione 23. Vorresti cenare insieme stasera? Anna, vuoi cenare insieme stasera? Conosco un nuovo ristorante fantastico che ha appena aperto. Sembra meraviglioso, John. Sono sempre pronto a provare posti nuovi. Che tipo di cucina offrono? È un ristorante fusion che combina sapori di culture diverse. Ho sentito che il loro menù è piuttosto unico. Sembra interessante. Sono curioso di assaggiare le diverse combinazioni che offrono. Ottimo. Farò una prenotazione per noi. Qual è l'orario migliore per te? Che ne dite delle 19? Dovrebbe darci abbastanza tempo per rilassarci e goderci il pasto. Sembra perfetto. Allora prenoterò un tavolo per le 19 di stasera. Grazie, John. Non vedo l'ora di provare questo nuovo ristorante con te. Anch'io, Anna. Penso che sarà un'ottima esperienza culinaria. A proposito di esperienze, hai mai visitato un museo prima d'ora? Sì, l'ho fatto. Mi piace esplorare l'arte e la storia nei musei. Meraviglioso. Trovo che i musei siano luoghi affascinanti in cui imparare e apprezzare diverse forme d'arte. Non potrei essere più d'accordo. I musei offrono uno sguardo al passato e alla creatività dell'umanità. Hai un museo preferito o un tipo specifico di arte che ti piace? Non ho un museo preferito, ma apprezzo varie forme d'arte, come dipinti, sculture e fotografie. Allo stesso modo, John. È incredibile come gli artisti possano esprimersi attraverso mezzi diversi. Dovremmo pianificare presto una visita al museo. Sarebbe un ottimo modo per trascorrere una giornata immersi nella cultura. Mi piacerebbe molto, John. Pianifichiamo di visitare un museo ed esplorarne i tesori artistici. Assolutamente, Anna. Aspettiamo una deliziosa cena stasera e future avventure nei musei insieme. Lezione 24. Sei mai stato al Fashion Boulevard? Anna, sei mai stata al Fashion Boulevard? Ne ho sentito parlare bene. Sì, John. Ci sono già stato. È un posto fantastico. Hanno un'ampia selezione di negozi alla moda. È bello saperlo. Volevo rinnovare il mio guardaroba e ho sentito che hanno delle ottime opzioni di moda. Assolutamente, John. Troverai molti negozi che offrono diversi stili e marchi tra cui scegliere. Hanno anche negozi di accessori? Potrei usare dei nuovi accessori per completare i miei outfit. Sì, lo fanno. Troverai negozi di accessori che offrono una varietà di articoli come gioielli, borse e cinture. Eccellente. Sarà bello curiosare tra i diversi negozi e trovare degli accessori alla moda. Non dimenticare di dare un'occhiata anche ai negozi di scarpe. Hanno una buona selezione di calzature per uomo e donna. Questa è una buona osservazione, Anna. Mi assicurerò di esplorare anche i negozi di scarpe. Inoltre, Fashion Boulevard ha anche alcuni bei caffè e ristoranti se hai bisogno di una pausa dallo shopping. Questo è un bonus. Sarà fantastico avere un posto dove rilassarsi e mangiare qualcosa durante il nostro giro di shopping. Sicuramente. Si aggiunge all'esperienza complessiva e la rende più piacevole. Non vedo l'ora della nostra visita al Fashion Boulevard. Sembra il posto perfetto per trovare nuovi capi di moda. Sono sicuro che troverai delle fantastiche aggiunte al tuo guardaroba, John. È una destinazione popolare per gli appassionati di moda. Grazie per avermi fatto conoscere Fashion Boulevard, Anna. Apprezzo la tua raccomandazione. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto condividere con voi questo fantastico posto per fare shopping. Diamo il via allo shopping di successo e alla ricerca di articoli di moda alla moda al Fashion Boulevard. Lezione 25. Ho sentito che andremo a Willowbrook per il nostro weekend. Anna, ho sentito che andremo a Willowbrook per il nostro weekend. C'è qualcos'altro che dovrei sapere sul posto? Willowbrook è una destinazione meravigliosa, John. È noto per i suoi percorsi naturalistici panoramici e le attività all'aperto. Sembra incredibile. Mi piace passare il tempo nella natura ed esplorare nuovi sentieri. Ci sono anche alcuni affascinanti negozi e ristoranti locali nel centro della città. Vale la pena provarli. Sarà bello esplorare la città e sostenere le imprese locali. Non vedo l'ora di provare la cucina locale. Assicurati solo di mettere in valigia abiti e scarpe comodi. Faremo molte passeggiate e attività all'aperto. Ottima osservazione, Anna. Farò in modo di fare le valigie adeguate per il nostro weekend avventuroso. Inoltre, non dimenticare di portare una crema solare e un repellente per insetti. Trascorreremo molto tempo all'aperto. Grazie per il promemoria, Anna. Mi assicurerò di mettere in valigia gli oggetti essenziali per rimanere protetto. Infine, preparati ad ammirare panorami mozzafiato e opportunità fotografiche. Willowbrook è nota per la sua bellezza naturale. Mi assicurerò di portare la mia macchina fotografica. Non voglio perdermi l'occasione di immortalare quei momenti meravigliosi. Sembra che abbiamo tutto sotto controllo, John. Sono entusiasta del nostro weekend a Willowbrook. Anch'io, Anna. Sarà una vacanza memorabile all'insegna della natura, del buon cibo e del relax. Ecco un weekend indimenticabile a Willowbrook e alla creazione di bellissimi ricordi insieme. Lezione 26. In che modo le piattaforme di social media raccolgono e condividono i dati degli utenti? Anna, hai mai pensato a come le piattaforme di social media raccolgono e condividono i dati degli utenti? Sì, John. È qualcosa che sicuramente mi preoccupa. La nostra privacy è importante. Assolutamente. È inquietante pensare a come vengono utilizzate le nostre informazioni personali e a nostra insaputa. Credo che dovremmo essere più cauti riguardo ai dati che condividiamo e a chi può accedervi. Questa è un'osservazione valida, Anna. Dovremmo prestare attenzione alle autorizzazioni che concediamo a queste piattaforme. È inoltre essenziale leggere e comprendere le politiche sulla privacy delle piattaforme che utilizziamo. Concordato. Sapere come i nostri dati vengono raccolti, archiviati e condivisi può aiutarci a prendere decisioni informate. Possiamo anche adottare misure per proteggere la nostra privacy, come modificare le impostazioni sulla privacy e prestare attenzione a ciò che pubblichiamo. Vero. Dovremmo pensarci due volte prima di condividere informazioni personali o intraprendere attività che potrebbero compromettere la nostra privacy. È importante ricordare che i nostri dati hanno un valore, e che dovremmo avere il controllo su come vengono utilizzati. Assolutamente, Anna. Non dobbiamo sottovalutare l'impatto e le implicazioni della nostra impronta digitale. Essendo più consapevoli della nostra presenza online, possiamo riprendere il controllo sulla nostra privacy. Facciamo uno sforzo consapevole per rimanere informati e proteggere la nostra privacy in questa era digitale. Sono felice di avere questa conversazione, John. È un promemoria per essere vigili e proattivi sulla nostra privacy online. Davvero, Anna. Dobbiamo essere consapevoli della nostra impronta digitale e salvaguardare le nostre informazioni personali. Lezione 27. Hai cercato anche delle camicette da abbinare? Anna, quando facevi la spesa per gli abiti, cercavi anche delle bluse da abbinare? Sì, John. Ho provato alcune bluse per creare un look coordinato con gli abiti. È una mossa intelligente. Una blusa ben abbinata può valorizzare l'outfit generale. Esattamente. Volevo trovare camicette che completassero il colore e lo stile degli abiti. Hai trovato delle bluse che si adattavano bene agli abiti che hai scelto? Sì, l'ho fatto. Ho trovato un paio di camicette che stavano benissimo se abbinate agli abiti. È fantastico. È sempre una soddisfazione trovare la combinazione perfetta di pezzi. Sicuramente lo è. La blusa giusta può aggiungere un po' di eleganza e raffinatezza a un abito. Hai preso in considerazione stili e modelli diversi per le camicette? Sì, ho provato una varietà di stili, inclusi colori solidi e motivi sottili. È bello avere una certa varietà nel guardaroba. Motivi diversi possono creare look diversi. Sono d'accordo. È bello avere delle opzioni a seconda dell'occasione e delle preferenze di stile personali. Sono contenta che tu abbia trovato delle camicette adatte a completare i tuoi outfit. Mostra attenzione ai dettagli. Grazie, John. Per me è importante creare un look coeso e ben strutturato. Beh, non vedo l'ora di vedere i tuoi abiti con tute e camicette. Sono sicuro che avrai un aspetto fantastico. Grazie per le tue gentili parole, John. Mi assicurerò di indossarli con sicurezza. Ecco gli outfit eleganti e la combinazione perfetta di completi e bluse. Lezione 28. Sto pianificando il nostro itinerario per il nostro viaggio. Anna, sto pianificando il nostro itinerario per il nostro viaggio. Avete scelte o preferenze specifiche? Li annoterò, John. Che ne dite di esplorare alcune attrazioni e monumenti locali? Ottima idea, Anna. Mi piace sempre immergermi nella cultura locale quando viaggio. Potremmo visitare siti storici, musei o persino mercati locali per avere un assaggio dallo stile di vita locale. Assolutamente. È un modo meraviglioso per conoscere la storia e le tradizioni del luogo che stiamo visitando. Possiamo anche provare la cucina locale, e cenare in ristoranti autentici per provare i sapori locali. Sono assolutamente d'accordo, Anna. Provare i piatti locali è uno dei momenti salienti di ogni viaggio per me. Inoltre, potremmo chiedere consigli alla gente del posto o esplorare luoghi meno conosciuti fuori dai sentieri battuti. Esplorare gemme nascoste sembra emozionante. Aggiunge un elemento di avventura al nostro viaggio. Sicuramente sì. A volte, le esperienze più memorabili vengono dalla scoperta di tesori nascosti. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. Assicuriamoci di includere molte esperienze locali nel nostro itinerario. Assolutamente, John. Abbracciamo la cultura locale e sfruttiamo al massimo il nostro viaggio. Scoprite il fascino delle attrazioni locali, assaporate la deliziosa cucina locale e create insieme ricordi indimenticabili. Ciao, Anna. Ho notato che l'hotel in cui alloggiamo offre visite guidate. Puoi dirmi di più su di loro? Certo, John. Le visite guidate dell'hotel sono un modo conveniente per esplorare le famose attrazioni della città. Sembra davvero comodo. Hanno diverse opzioni di tour o pacchetti? Sì, offrono varie opzioni di tour in base alla durata e alle attrazioni specifiche che desideri visitare. Questo è grandioso. Ci dà la flessibilità di scegliere il tour più adatto ai nostri interessi e al nostro programma. I tour sono guidati da guide esperte che forniscono informazioni interessanti su ogni attrazione. Avere le informazioni di una guida migliorerebbe l'esperienza e ci aiuterebbe a capire il significato dei luoghi che visitiamo. Assolutamente. È come avere un esperto locale che ci mostra e ci racconta storie affascinanti. I tour sono condotti in gruppo o possiamo avere un tour privato? Entrambe le opzioni sono disponibili, John. Possiamo partecipare a un tour di gruppo o organizzare un tour privato se preferiamo un'attenzione più personalizzata. È bello saperlo. Ci dà la libertà di scegliere lo stile di tour più adatto alle nostre preferenze. Inoltre, le visite guidate dell'hotel spesso includono il trasporto e talvolta anche i pasti a seconda del pacchetto. Questo è comodo. Ci risparmia il fastidio di organizzare il trasporto e ci assicura un'esperienza confortevole. Sicuramente sì. Possiamo rilassarci e goderci il tour senza preoccuparci della logistica. Grazie per aver fornito tutte le informazioni, Anna. Penso che fare un giro turistico sarà un ottimo modo per esplorare la città. Benvenuto, John. Sono d'accordo. È un modo comodo ed efficiente per vedere i punti salienti della città. Ecco un emozionante giro turistico che ci permette di scoprire la bellezza della città e conoscere la sua storia. Lezione 30. Sono solo curioso di sapere se vale la pena visitarla. Anna, perché me lo chiedi? Sono solo curiosa di sapere se vale la pena visitarla. Bene, John. Ho sentito parlare molto bene del Museo d'Arte della città. Questo sì che è interessante. Cosa rende il Museo d'Arte così apprezzato? Il museo ha una vasta collezione di opere d'arte classiche e contemporanee. Capisco. Quindi offre una vasta gamma di stili e periodi artistici. Esattamente. È noto per la presenza di artisti famosi di epoche e culture diverse. Sembra affascinante. Apprezzo l'arte e mi piacerebbe vedere una collezione così diversificata. Inoltre, il museo ospita spesso mostre speciali che presentano opere d'arte uniche e stimolanti. Questo è un bonus. Significa che ogni volta potrebbe esserci qualcosa di nuovo ed emozionante da vedere. Sì, mantiene il museo dinamico e coinvolgente per i visitatori. Ci sono opere d'arte o artisti specifici particolarmente famosi nel museo? Sicuramente. Il museo ospita capolavori iconici di artisti famosi come Van Gogh, Monet e Picasso. Wow, sono nomi leggendari nel mondo dell'arte. Sarebbe incredibile vedere le loro opere da vicino. Lo sarebbe davvero, John. Il museo offre l'opportunità di apprezzare la bellezza e il talento dietro queste opere d'arte. Ne sono convinta, Anna. Il museo d'arte sembra una destinazione imperdibile durante il nostro viaggio. Sono felice che tu la pensi così, John. Sarà un'esperienza meravigliosa sia per gli appassionati d'arte che per coloro che apprezzano la creatività. Basta immergersi nel mondo dell'arte e lasciarsi ispirare dai capolavori del museo. Basta immergersi nel mondo dell'arte e lasciarsi ispirare dai capolavori del museo. Ecco. Grazie a tutti